eccoci finalmente al lago fips io e il mio figlioccio alessandro che stamattina abbiamo fatto una garetta una bella garettina molto combattuta e però 15 a 14 però è stata una bella garetta ne abbiamo perso i venti minimo minimo in due ne abbiamo perso i venti però stamattina ho avuto meno l'onore di bastonare mio figlio dopo tanto tempo che non pescavamo si mettrà che no perché se li sbagliari perché no la vittoria sono presa la vita me la sono presa la vittoria vediamo le nostre postazioni da in fondo la in fondo eccole la ecco gli amici oro va bene vi lasciamo con queste belle immagini del lago la c'è una piccola garetta e dai se l'è meritata la vittoria dai grande